Il Valser da Favola Il Valser da Favola Al momento di ricevere la corona la ragazza si è lasciata sfuggire qualche lacrima, subito immortalata dai flash dei fotografi. Subito inizio a chiamare le mie amiche perché impazziranno. Sarà lei con il suo accompagnatore Giuseppe a rappresentare l'Italia al celebre Gran Ballo dell'Opera di Vienna nel 2011.